ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema anzitutto augurarvi un buon anno un buon 2018 speriamo che ci porti tanti bei film in sala come consuetudine facciamo un podcast sui film più attesi o meglio che noi pensiamo sia no i più attesi per il mese di gennaio e come sempre ne parlo con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo e buon anno e buon anno anche a te buon anno tutti quanti sono diversi film che escono in questo mese anche film italiani e anche di un italiani ma con un sapore internazionale quindi insomma film molto interessanti alcuni beh ne abbiamo ne abbiamo parlato come si dice già in un podcast ad hoc per esempio l'ultimo film di salvatores ma ce ne sono tanti altri che sono diretti da registi italiani e che hanno un sapore neanche più europeo ma proprio internazionale assolutamente sì e diciamo che adesso le feste di natale stanno per per finire quindi la macchina del cinema ritorna in moto e partiamo fondamentalmente da tre film che escono a metà gennaio che sono anzitutto ella e john che segna l'esordio di paolo virzy nel cinema americano e a un on the road che ha come protagonisti ellen mirren e donald shuttland è un film che sinceramente a me incuriosisce molto e a te beh il film è era una un film che arriva quasi naturalmente per nella carriera di un di un regista che è apprezzato in italia da ormai decenni almeno vent'anni paolo virzy e il film è dicevo come spesso accade ai registi italiani che si vogliono cercano di confrontarsi anche con un cinema appunto come dicevamo meno localistico e virzy è partito dalla sua livorno adesso arriva negli stati uniti raccontando come spesso accade ai registi italiani che si vanno negli stati uniti a raccontare di cinema una storia come diceva appunto sulla strada i protagonisti sono due persone anziane che intraprendono questo viaggio alla faccia di tutto e di tutti è un film alla virzy pur mantenendosi appunto pur essendo un film americano è stato presentato a venezia se non ricordo male il film ha avuto ha avuto anche delle buone buone critiche e una buona accoglienza assolutamente quindi è un film che aspettiamo sempre nella stessa settimana Ella e John esce il 18 di gennaio sempre il 18 di gennaio esce un film italiano che è il il vegetale il film che segna l'esordio di Fabio Rovazzi al cinema e che sinceramente mi incuriosisce vorrei vedere non tanto per Rovazzi comunque sì è una parola ma quanto perché lo scrittore e il direttore del film è Gennaro Nunziante esatto Gennaro Nunziante che è l'ex braccio destro di Checco Zalone quindi potenzialmente potrebbe essere un bel film beh il film sono quei film spartiacque perché Rovazzi ha sorpreso tutti quanti un paio di anni fa con esordendo nel mondo della musica arrivando dal 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 canali dai canali video da youtube in generale si è affermato nel mondo della musica anche lo scorso anno e adesso ci prova col cinema Rovazzi è un personaggio borderline potrebbe avere fortuna anche nel cinema e la firma dinunziante e la mano che lo accompagna al cinema è una mano importante però potrebbe essere anche uno spartiacque cioè un fallimento totale di questo insomma siamo lo vedo un po' perché siamo così un po' scettici o incuriositi e basta più incuriositi più più per il regista che firma anche la sceneggiatura che per Rovazzi di per sé che per quel poco che si è visto nel trailer non mi sembra faccia danni quindi curioso curioso anche perché poi il film diciamo tratto un argomento molto giovane cioè i giovani che si laureano e cercano il lavoro e ovviamente non lo trovano e quindi sta al tocco del regista fare un film costruttivo e interessante ecco vedremo ma sempre il 18 di gennaio esce al cinema il film l'ora più buia un film biopic drammatico dedicato finalmente interamente a Winston Churchill il personaggio ovviamente storico della seconda guerra mondiale ma che al cinema in realtà non ha mai avuto il personalmente giusto spazio eh perché perché dall'altra parte avevi Adolf Hitler che cinematograficamente eh si è preso tutto ecco ecco finalmente arriva un film tutto dedicato a Winston Churchill con eh nei panni di Winston Churchill è Gary Oldman che è in corsa diretta per gli Oscar 2018 film presentato al festival di Torino ha avuto anche qui una una platea molto entusiasta eh il film è molto atteso anche perché e soprattutto perché è una grandissima prova d'attore questa sì è vero eh quello diciamo che sta spingendo eh tanto il il film e diciamo eh in breve che eh siamo nel nel momento clou della 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 seconda guerra mondiale cioè nel momento clou della svolta in negativo per eh Hitler e per fortuna in positivo per gli alleati ovvero quando eh Adolf Hitler decide di attaccare l'Inghilterra via eh sia via via nave che via aerea e Winston Churchill deve pianificare una una difesa tanto più che siamo nel nello stesso momento in cui l'esercito inglese è bloccato a Dunkirk che ovviamente è stato raccontato nel nel capolavoro di eh di Christopher Nolan e che abbiamo messo come miglior film del 2017 quindi questo 2018 continua un po' in 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 quella direzione ma andiamo avanti con questa nostra carrellata di film più attesi eh per questo mese parlando di un altro film italiano che è Chiamami col tuo nome film di Luca Guadagnino che sta eh riscuotendo tanto interesse eh all'estero e in primis eh negli Stati Uniti che vede protagonista l'attore un bravissimo attore che avevano già visto in mine che è Ermi Hammer Eh beh eh Luca Guadagnino è proprio quello che diceva l'esempio di quello che dicevamo all'inizio del podcast cioè di quei registi italiani che hanno questo spessore questa ehm questa aria intellettuale eh aria internazionale scusate eh Guadagnino il cinema di Guadagnino è più apprezzato all'estero quasi che in Italia e anche quest'ultimo film Chiamami col tuo nome è già uscito in Inghilterra dove è diventato un piccolo culto eh ha già partecipato ai Grammy e ha già avuto delle nomine e si presume che avrà anche delle nomination ai prossimi Oscar il film è ambientato in Italia eh campagna del nord Italia ed è una storia una storia d'amore tra un giovane sedicenne eh figlio di una eh ricca famiglia ebrea eh italiana però dove una famiglia dove si parla inglese dove si parla francese si parla tedesco e si parla a volte anche italiano e eh il giovane assistente un assistente universitario del padre che arriva appunto in una estate degli anni ottanta come dicevamo in questa campagna e c'è questa racconto di questa storia d'amore la sceneggiatura ricordiamolo è di un grande regista ovvero James Ivory eh concludiamo invece il il questo nostro eh speciale dedicato ai film più attesi eh di gennaio parlando di un altro film che esce sempre il venticinque eh di di gennaio che è Downsizing è un film presentato eh all'ultimo festival di Venezia diretto da Alexander Payne con Matt Damon è un film che io aspetto moltissimo perché ehm mi incuriosisce perché ha quel tono è un film eh metata commedia dramma e fantascienza perché fondamentalmente si parla di un problema attuale ovvero quello del dell'inquinamento e della sovrapposizione e cosa cosa che idea geniale viene viene scogitato ovvero se abbiamo questo problema così grande riduciamoci noi e quindi viene ridotto tutto il resto. Sì il film è interessante ci siamo a Damon protagonista eh la regia è di un regista che a me personalmente piace sempre tanto è un regista che sa raccontare storie sempre diverse e anche qua ci prova con una una storia appunto tra il fantascientifico il grottesco eh molto molto interessante Alexander Payne è un regista di gran classe e questo film ci incuriosisce tantissimo. Assolutamente ricordiamo che il regista ha alle sue spalle due film meravigliosi come Paradiso Amaro e Nebraska quindi eh diciamo che sono due film eh anzitutto se non non li avete visti consiglio assolutamente di vedere comunque sono due film che dimostrano la 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 sua qualità ed era un regista che si era fatto apprezzare anche per sideways il film sul sul vino diciamo. Ehm ecco 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 anche un film molto molto interessante e molto eh curioso come come detto esce il 25 di gennaio. Per questa carrellata sui film più attesi di Cine e Tvilandia è tutto grazie per Paolo e ciao a tutti.